Torna il Ferragosto d'Italia 2016 e la sesta edizione si terrà il 13, 14 e 15 agosto prossimi sulla litorale di Marina di Butera sulla spiaggia adiacente il Lido Panama Beach. L'evento gratuito più grande del sud Italia ha in serbo tante novità al fine di sorprendere come ogni anno le migliaia di giovani che trascorreranno la notte simbolo dell'estate sulla spiaggia di Marina di Butera. Tre giorni di manifestazioni, un vero e proprio festival della musica. La costa buterese merita una certa attenzione. Noi ci siamo riproposti anche perché sentiamo il dovere di dare delle opportunità a quei tanti turisti che sono nel nostro circondario. Abbiamo il pieno dappertutto già nel mese d'agosto e credo che anche per questo evento che è un evento straordinario, l'unico evento gratuito che esiste nel mezzogiorno dove ci saranno DJ famosissimi, ci saranno tantissimi DJ locali che si cimenteranno per la prima volta ebbene anche dargli l'opportunità di farsi apprezzare, di farsi valere. L'obiettivo prioritario è quello di creare una condizione positiva per il nostro territorio, cercare di valorizzare questa parte, questa fascia costiera per consentire a tutti i nostri abitanti, tutti i cittadini dei paesi limitrofi, ma prevalentemente a tutti quelli che vengono una volta l'anno di offrire loro una spiaggia bellissima, accogliente, positiva, poter trascorrere delle vacanze. Lo scopo è di natura turistica, ma vorremmo che fosse non soltanto turistico, vorremmo che fosse una condizione più continuativa nel tempo, che desse più sviluppo al nostro territorio e che potesse creare veramente occasioni per tanti giovani. L'iniziativa è dell'Associazione Culturale Suoni e Visioni, da sempre organizzatrice dell'intero evento, in collaborazione tra gli altri con Radio Gel Express. Prevista la presenza di artisti di calibro internazionale, i quali Riva Star, e dei giovani talenti dei Promised Land, un duo eclettico attivo dal 2003, ma oramai di fama internazionale che sta scalando velocemente le classifiche Dance ed Electro House d'Europa. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, abbiamo ampliato il nostro programma, anziché due giornate diventano tre. Tre giornate dedicate tutte e tre alla musica dance, con le tre sfaccettature diverse. La prima con gruppi live, sempre dance-oriented, la seconda con artisti commerciali e la terza con artisti più house. Quest'anno, come ogni anno, comunque avremo degli ospiti internazionali, ma quest'anno ci siamo veramente superati, avremo un ospite realmente internazionale che fa tour in tutto il mondo, a fare a tappa anche in questo territorio. Speriamo che vengano numerosi, come tutti gli anni, d'altra parte, anche che, come sempre, finora abbiamo anche avuto la fortuna di non avere mai incidenti o episodi negativi, per cui confidiamo nei nostri giovani, perché sono responsabili, oltre che vengono a divertirsi in modo sano.